Montagne 2000 è una realtà del territorio che genera tutto il suo fatturato o quasi sul territorio e a differenza di quasi tutte le altre realtà che generano il fatturato sul territorio lo reinveste qua quasi completamente e soprattutto crea posti di lavoro sul territorio con persone del territorio prevalentemente ma non solo nel settore operativo dove lo fanno in tanti ma anche da un punto di vista amministrativo dirigenziale di ricerca e sviluppo quanti posti di lavoro ha generato Montagne 2000 in questo periodo per le persone del territorio e soprattutto degli investimenti che fa e quindi della generazione di posti di lavoro indiretti quanti sono stati generati? Quale quantità di fatturato viene reinvestito sul territorio per realtà del territorio? Allora noi oggi siamo 43 persone quindi 13 persone in più del 2015 quando io sono arrivato abbiamo investito in personale sia diretto perché a differenza di molte altre realtà del territorio abbiamo il nostro personale operativo che segue direttamente gli impianti abbiamo investito in qualità del personale attraverso personale laureato per il miglioramento del servizio è ovvio che gli investimenti che facciamo sul territorio e i 7 milioni che si citavano sono fatti di piccoli appalti i quali vanno molti ad imprese del territorio quindi definire quanto indotto abbiamo creato è difficile sicuramente riteniamo che molte imprese abbiano beneficiato della ripresa degli investimenti Una delle difficoltà nel partecipare alle gare d'appalto delle imprese del territorio sono le piccole dimensioni che non permettono a causa delle leggi e degli appalti di poter partecipare Ovviamente questo fa sì che queste imprese siano in difficoltà e debbano licenziare quindi perdendo i posti di lavoro sul territorio magari dandone invece realtà più grandi di città o di fuori posto Voi avete risolto questo problema in qualche modo? Allora è ovvio che noi non possiamo mettere dei vincoli particolari vediamo che per la nostra dimensione per la dimensione dei nostri appalti soprattutto le manutenzioni sono di particolare interesse per il territorio Abbiamo fatto una statistica lo scorso anno tolta l'energia elettrica che ovviamente non è definibile Abbiamo oltre l'85% del nostro fabbisogno di acquisto esaudito da imprese della provincia di Parma e quasi il 70% da imprese del territorio dei 14 comuni soci Quasi tutto il fatturato viene generato sul territorio, viene rinvestito sul territorio ma crea anche posti di lavoro sul territorio sia diretti che indiretti E a livello sia operativo che dirigenziale che anche da un punto di vista della ricerca e sviluppo Questo uguale vale per il settore dell'acqua Per ciò che riguarda invece il settore ambiente così non è anche se fortunatamente è una realtà del territorio che se ne occupa per conto delirne Ma c'è una parte del fatturato generato dalle raccolte di rifiuti che comunque si drena e se ne va da questo territorio? E si potrebbero creare molti più posti di lavoro se si riprendesse in mano la gestione diretta dell'area ambiente e rifiuti? Avendo così la possibilità di creare un certo numero di posti di lavoro amministrativi sul territorio Oltre che dirigenziali di ricerca e sviluppo Posti di lavoro che di solito sono nelle sede principali delle realtà titolari degli appalti Quindi in questo caso nelle sede principali di IREN Quindi spostare questi posti di lavoro da Parma a Genova piuttosto che Torino alle valli del Taro e del Ceno sarebbe possibile? E quanti posti di lavoro si potrebbero generare? Oggi c'è fuori la gara quindi è una strada impraticabile E' una cosa che andava fatta qualche anno fa Adesso c'è fuori la gara, quando verrà insegnata ci sarà un bacino provinciale Credo che oggi dovrebbero lottare per conservare la tutela dell'idrico Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!